Musica Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovissimo video Io sono Cicciorek98 ed eccoci qui a provare questi pull Io ragazzi vi dico la verità, non volevo pullare Perché sento... non lo so, di non trovare nulla Quindi... per quello che non volevo pullare Non... sento che sarà uno schifo Siete proprio che sarà veramente uno schifo Adesso vediamo, boh, non lo so Vediamo qua cosa cazzo succede Ma io la vedo proprio grigia grigia Infatti non farò tantissimi pull Infatti guardate, già iniziamo con questo che io lo schifo proprio Che non lo voglio neanche vedere Direi di fare un'altra pescata, giusto così per esserne sicuri E vediamo un pochettino Allora... vabbè qua mi sembra che sia abbastanza buono Forse... forse è una SSR Sì Allora abbiamo una SSR Vediamo un po' cosa troviamo Secondo me però non sarà nulla di che Magari è un King Scorreggione ma... Niente di che... Niente di che... Niente niente di che... Madonna non l'ha neanche sconfitto bene Cioè è un po' una porcheria Allora... vediamo un po' Una rara Una rara La Marmas E la SSR vediamo chi è Ma non è possibile Ho detto che sarà uno schifo Per quello che non volevo pullare Ho detto... Lo vediamo Ah no ho trovato Nice Nice